Attualmente il sistema di bear sharing sono presenti sette stazioni sulla città di Perugia, di cui una sola, che è quella in Piazza Italia, è quella a Monte della Città. Bisogna fare il contratto, in seguito si ottiene una tesserina magnetica che permette di prelevare la bicicletta. Nell'Acropoli vogliamo creare ulteriori 10 stazioni, oltre a quelle esistenti, sui punti di accesso della città. Accanto a questo sarà prevista anche l'implementazione del sistema di pagamento dell'utilizzo della bicicletta pedalata assistita. Oggi come oggi nella città di Perugia è un po' macchinoso. A me è capitato che mi sono arrivati otto ragazzetti che volevano utilizzare la bicicletta. Io avevo l'ufficio pieno di gente e considerando che per ogni contratto ci vuole mediamente un quarto d'ora, a dieci minuti prima della chiusura dell'ufficio mi era quasi impossibile farlo. L'obiettivo è comunque di far capire ai cittadini la possibilità dell'utilizzo del mezzo pubblico e di consentire nel mezzo pubblico la possibilità di fare questo ultimo percorso attraverso la bicicletta. Sì, è un ottimo servizio e mi è capitato di prenderlo più di una volta. Sicuramente sarebbe più utile per la popolazione se avesse delle linee in più e quindi collegasse davvero l'intera città. Io abito in centro, quindi è tutta salita, quindi non l'uso, no. Le vedi sempre lì ferme, non c'è nessuno che le utilizza. E c'è pochissima cultura del ciclista, quindi forse anche per questo non hanno il successo che meriterebbero. Grazie.